Il gruppo Unica è un'associazione che raccoglie numerosi artisti artigiani del Val Gardena. Essa promuove da oltre un decennio ad Ortisei una grande mostra mercato della scultura. Numerosi artisti artigiani alle prese con la scultura usando le tecniche più diverse, dall'intaglio al basso rilievo al tutto tondo, con materiali i più diversi e con il legno grande protagonista, portando avanti un discorso di arte sposata all'artigianato. Mostre mercato, simposi, corsi di scultura in questi anni affollano le nostre valli, non solo per fare turismo, ma perpetuando le tradizioni locali e l'amore per l'ambiente in cui viviamo. La scultura è un universo, sterminato il campo delle tecniche, dei materiali, delle forme. Anche riducendo il campo alla sola scultura del legno, la materia è molto vasta e il tempo porta con sé una molteplicità di conoscenze ed esperienze, non sempre facilmente comunicabili. La scultura poi è il risultato del lavoro e il trionfo di ogni scultore nel rapporto con l'assoluto. Questo tipo di rapporto varia a seconda delle capacità e della passione mosse nel procedere all'esecuzione. Possiamo costruire qualsiasi cosa, in qualsiasi modo, usando tecniche diverse, eppure sui risultati possiamo dire di non avere mai delle certezze. L'impatto emotivo che crea una scultura è soggettivo, non misurabile e a volte conflittuale. L'impatto emotivo che crea una scultura, non misurabile e a volte conflittuale.